Safegate Pro, igienizzare le persone, gli ambienti e controllare gli accessi. Igiene e sicurezza, sempre e ovunque. Visita il nostro sito, safegatepro.com Un cordiale saluto, bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6. Nel corso di questo lunedì 7 febbraio assisteremo ad un rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche prevalentemente al centro e al sud e in particolar modo sul versante adriatico. In arrivo infatti aria più fredda di origine artica che valicherà i Balcani attraverserà l'adriatico e porterà un po' di vento, specie sul versante adriatico, qualche pioggia sparsa, qualche acquazzone e anche dei fiocchi di neve fino a quote di alta collina. In Abruzzo al mattino cieli poco nuvolosi che diverranno nuvolosi, poi tra pomeriggio e sera irromperà quest'aria più fredda che farà scendere in modo marcato le temperature e porterà anche dei fenomeni sparsi. Ci aspettiamo qualche acquazzone, un po' di piogge sparse, nevicate in apennino fino a quote di alta collina, generalmente attorno ai 600 metri di quota, specie in serata. Poi a partire dalla tarda sera avremo un progressivo miglioramento del tempo, però in un contesto abbastanza ventoso e soprattutto più freddo. Con questo è tutto, grazie per essere stati con noi. Arrivederci al prossimo appuntamento. Safegate Pro Igenizzare le persone, gli ambienti e controllare gli accessi. Igiene e sicurezza sempre e ovunque. Visita il nostro sito.